A Terre di Cinema, direttamente da Venezia, perché praticamente è stato questo il tragitto che ha portato qui Laura Dellicolli ad inaugurare questa mostra dedicata a due grandi maessi della fotografia, tra cui ovviamente il padre Franco Dellicolli, di cui tra l'altro vediamo un'immagine molto bella. Credo che questa foto vi piaccia soprattutto perché in un festival, in una rassegna come questa non può mancare un riferimento alla Reflex. Intanto grazie perché ci avete dato un'emozione forte, la prima volta che per papà e soprattutto per Zio Tonino nasce questa, chiamiamola, piccola celebrazione, che mi fa piacere perché penso che sia l'omaggio a un cinema che è stato un po' trascurato, un po' dimenticato, ma il dietro le quinte, il backstage, cioè rivedere anche quando il cinema era solo artigianato puro, sentendo la luce qui, come dicevano tutti e due e non solo utilizzando gli strumenti che vediamo in queste foto, è sempre un modo per recuperare una maniera decisamente artigianale di fare la fotografia. Sono andati via forse tutti e due troppo presto dai set e anche dalla vita per affrontare una fase decisamente innovativa che non so come avrebbero accolto. Forse a papà non sarebbe piaciuto l'idea della fotografia digitale ma tutti e due hanno avuto un rapporto con la pellicola talmente importante, talmente particolare che penso che avrebbero avuto qualcosa da dire. Io ricordo però questo modo che papà aveva e che era appunto sicuramente un piccolo marchio di fabbrica di farsi da soli anche degli strumenti che potevano servire per avere risultati migliori, cioè non hanno usato solo dei mezzi tradizionali, gelatine, filtri, ma addirittura facevano da soli dei piccoli trucchi del mestiere, magari usando una calza di seta o anche solo il resto di un collant per fare a volte un velatino migliore di quello che poteva offrire appunto la tecnologia. Quindi sicuramente è stato un modo molto molto particolare di farlo, anche se a loro si deve insieme la firma del primo film a colori italiano, tutto a colori, qui in questa mostra ce n'è una selezione di fotogrammi che è stato appunto il grande esperimento in Ferraniacol degli anni 50, quindi insomma un po' sono stati insieme dei pionieri. Papà era più giovane ed è stato naturalmente l'allievo che ha lavorato con Tonino, che era arrivato molto prima a Cinecittà e lo aveva portato con sé anche come assistente, aiuto. Credo che la cosa importante sia stata al di là delle esperienze diverse che inevitabilmente hanno avuto e della fama anche internazionale di Tonino, un po' questo modo di fare squadra che difficilmente si è ripetuto nel cinema, anche se il cinema è fatto di dinastie, quindi le famiglie tornano sempre, anche tra i direttori della fotografia, i di Palma e poi tantissimi insomma che in seguito hanno seguito le orme dei padri o degli zii, perché no. Ma fuori dal set, in famiglia, continuavano a parlare di lavoro? Ma intanto loro sono stati molto legati nei primi anni della loro storia professionale comune, poi un po' meno, salvo ritrovarsi diciamo un pochino più da grandi e recuperare dei figli che avevano avuto comuni. Però penso che tutti e due avessero in comune questa cifra di delicatezza e di molta distanza dal set per quanto riguarda la famiglia, i figli. Insomma noi non siamo andati molto sul set, a parte, non so, io quando ero piccola, per cui qui c'è una foto di Arrivederci Roma che coincide con una foto che io ho in braccio a Renato Rascher, piuttosto che ricordo un set a sei anni con Steve Reeves, era uno di quei film di Pirati, a Ischia, oppure I nuovi angeli di Ugo Gregoretti, un'opera prima che in quel caso fece solo papà ed eravamo a Rimini l'anno dopo. Quindi insomma più o meno cose da bambina. Poi ho avuto due fratelli che non sono qui oggi ma che sono ovviamente ugualmente appassionati e sono rimasti molto legati alle cose di cinema. Per noi è stato sempre molto difficile riuscire ad andare sul set, per me in particolare un po' meno perché poi la professione giornalistica mi ha portato piano piano a occuparmi anche di cinema. E allora un ricordo di set che ho però non di mio padre ma di Donino, una bellissima giornata nascosta però dietro una colonna di legno, un pilasto di legno della scenografia di C'era una volta in America, complice Sergio Leone che mi disse che De Niro non voleva assolutamente nessuno sul set ma mi fece andare per fare una cronaca di cui non dovevo scrivere niente nero su bianco. Quindi stavo senza respirare dietro una colonna con mio zio che mi guardava malissimo perché era una cosa che avevo strappato a Sergio Leone e Sergio che mi disse se De Niro smette di girare e fa una scenata io non ti conosco. Però ho fatto una bellissima pagina sul Repubblica, devo dire che in quel caso la ricordo proprio bene questa cosa. A proposito di giornalismo, da presidente del sindacato dei giornalisti cinematografici, qual è l'importanza di questo festival che è comunque l'unico in Italia e in questo momento anche in Europa dedicato esclusivamente alla fotografia cinematografica? Guarda, è talmente importante che io credo che meriterebbe più attenzione e forse da forza da grobbi, dovrebbe fare un po' come fanno i grandi festival, Venezia a Roma o non so anche Cannes a Roma quando si vedono le proiezioni, cioè cercare di importare un pochino di più nella città del cinema l'attenzione non per gli argomenti che questo festival mette in campo ma forse per il lavoro che qui si fa, insomma è un posto sicuramente non facile da raggiungere e che però proprio per questa difficoltà riesce probabilmente anche a mettere insieme un laboratorio inevitabilmente un po' a porte chiuse, cioè i ragazzi che vengono qui e anche gli esperti di fotografia lavorano davvero per qualche giorno insieme a stretto contatto e non può che farci piacere aver dato proprio a voi questa assoluta anteprima di qualcosa che speriamo continui perché ci siamo appassionati l'idea di rivedere questi fotogrammi e forse nel momento in cui si avvicinano insomma un po' di appuntamenti per ricordare forse gli anni in cui la vita si è divisa e ci ha separato da loro, ritrovare anche un po' di memoria che non ci fa male.